La vandalizzazione è qualcosa che è sempre stata utilizzata per distruggere dei simboli. Così pensai a un gesto ancora più estrema di questo vandalo, per cui immaginare di strappare il Cristo dalle braccia della Madonna. Inneggia alla libertà di tutti gli individui, di tutte le persone, e ne esclude la violenza, la violenza che è scatenata dall'odio raziale, dall'intolleranza, dall'indifferenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.